Wall Street Italia in collaborazione con la società sportiva Calcio Napoli, Fabi, il comune di Castellisangro, la provincia dell'Aquila e il supporto di Rete 8 organizza martedì 30 luglio alle ore 17 presso il teatro comunale Francesco Palotosti di via Porta Napoli a Castellisangro l'evento Banche Calcio e Impresa. L'appuntamento entra in onda anche sui canali di Wall Street Italia nella trasmissione Smart Talk e sarà ripreso dalle telecamere di Rete 8. Tra i relatori Giuseppe Castagna amministratore delegato di Banco BPM, Corrado Passera amministratore delegato e fondatore di Limiti, Lando Maria Sileoni segretario generale della Fabi, Vito Grassi presidente di Unione Industriale Napoli e Confindustria Campana, Maurizio Marinella imprenditore dell'omonima Maison Sartoriale, Davide Giacalone giornalista e scrittore, Alessandro Fanni imprenditore e con la partecipazione straordinaria anche di Aurelio De Laurentiis patron del Napoli. L'evento verrà la conduzione televisiva della collega Leopoldo Gasbarro direttore di Wall Street Italia.